Buonasera ragazzi, e andiamo, e andiamo, e andiamo, Ken tu l'hai deciso, tu l'hai deciso Juve Roma, Ken tu l'hai deciso, e andiamo ragazzi, cazzo, mamma mia ragazzi, che vittoria sofferta, ma che vittoria sofferta questa sera ragazzi, mamma mia, io fino a maggio non ci arriverò così, non ce la posso fare ragazzi, non ce la posso fare, che sofferenza, tutte le partite, ma questa vittoria è stata veramente importantissima, contro una bella Roma, una vittoria importantissima ragazzi, E adesso, testa lo zenith mccordi, testa lo zenith mccordi, che dobbiamo continuare a vincere e convincere, perché la convinzione è un fattore veramente determinante nelle partite, e andiamo ragazzi, e andiamo ragazzi, e andiamo ragazzi, cazzo, Bene ragazzi, con questo è tutto, vi auguro una buonanotte, iscrivetevi al canale YouTube, iscrivetevi anche su Instagram, su ZebraBianconera95, e seguitevi anche sulla pagina Facebook di ZebraBianconera, nella gira del dolore, fino alla fine, forza Juventus sempre, buonanotte a tutti ragazzi, ciao!